Attraverso gli anni la maggior parte di noi hanno sentito storie sui fantasmi e incluso c'è chi ha vissuto di persona queste sconcertante esperienze. Comunemente si intende per fantasma l'apparizione di un'entità o spirito di una persona defunta. Lungo la storia i fantasmi sono apparsi praticamente in tutte le culture e sono una parte fondamentale del folklore di numerose civiltà di ogni parte del mondo. Qualche giorno fa, cercando nella web, ho trovato questo video, lo stesso che vi farò vedere. Sarete voi a decidere se credere o no credere a entità sconosciute. La storia del video racconta che un supervisore notturno di una famosa aerolina messicana gli informarono che in uno degli aerei del deposito si sentivano dei forti rumori. Il supervisore salì sull'aereo per vedere cosa succedeva e quello che registrò è veramente inquietante. Il video di per sé è corto ed è molto scuro. Cercate di concentrarvi su quello che state per vedere e soprattutto attenti. Cercate di concentrarvi sull'aereo per vedere e soprattutto attenti. No mames. No mames. Cercate di concentrarvi sull'aereo per Katari-Luxi. Cercate di concentrarvi sull'aereo per per Entità paranormali che secondo l'investigatrice Heidi Hollis, nella maggior parte dei casi si trattano di entità paranormali con intenzione malvagia. E voi cosa ne pensate? Avete avuto esperienze paranormali di questo tipo? Scrivete la vostra esperienza nei commenti, mi farebbe piacere leggerli. Questo è il canale dell'orrore. Buonanotte Se il video ti è piaciuto, dagli un like, iscriviti o lascia un commento, questo mi aiuterà a caricare altri video. Grazie